Ben trovati e bentrovate su Non spegnere la luce, un podcast brutto, sporco e cattivo in cui ogni settimana cerchiamo di far luce sui misteri più oscuri della storia criminale moderna. Io sono Michele Dinnella e potreste conoscermi già per altri podcast come Storie di Tenebra o come Inverno Nucleare e ad accompagnarmi in questo viaggio nella mente criminale, come sempre, ci sarà Giacomo Giacquinto, attore e autore del podcast Storie Alternative. Come sempre prima di iniziare salutiamo i nostri amici del gruppo Telegram che sono sempre di più, sempre più affezionati, sempre più calorosi e quindi vi portiamo nel cuore e se volete passarci a trovare anche voi che state ascoltando e che magari siete curiosi di entrare in questa community potete commentare insieme a me, a Giacomo e a tanti dei nostri ospiti la puntata della settimana trovando il link per iscrivervi qui sotto nella descrizione di questo episodio e ovviamente la mia raccomandazione è sempre di non entrare in punta di piedi ma di sbattere la porta, di presentarvi, di farci sapere chi siete, che cosa fate, da dove venite, da dove ci ascoltate, dove siete nel mondo, dove siete con la vostra vita e soprattutto come avete scoperto questo podcast che è la cosa che ci incuriosisce sempre di più perché gli algoritmi delle piattaforme rimangono sempre molto misteriosi per me, Giacomo. Ma adesso vando alle ciance perché oggi c'è a trovarci una ospite nuova e speriamo di averla per tante altre volte in futuro, speriamo che si trovi bene qui a casa nostra e allora ve la presento, lei è Carlotta Toschi, avvocato penalista, detentrice di un master in diritto di famiglia ma soprattutto podcaster e autrice della serie Dark Diaries. Ciao Carlotta e grazie per essere qui con noi. Buongiorno Michele, buongiorno Giacomo e grazie a tutti gli ascoltatori di Non spegnere la luce. Grazie a te per essere qui con noi e grazie a voi per l'ascolto ma adesso torniamo all'ordine perché la storia che racconteremo oggi è una storia che forse già qualcuno di voi conoscerà ma che è anche una storia ben più triste e ben più profonda di quanto si possa credere a prima vista perché è una storia fatta di abusi come se ne sentono tante al giorno d'oggi in Italia e seppure venga spesso ricordata con appellativi come la vedova nera o simili la protagonista della puntata di oggi come avrete capito la serial killer Milena Quaglini ha trascorso una vita intera sottomessa dagli uomini che le sono stati accanto prima il padre violento e dispotico poi i mariti e i compagni che si sono alternati con la promessa di una vita felice che poi si è tramutata in una realtà fatta appunto soltanto di abusi e di violenze domestiche e la sua sarebbe sarebbe una storia come tante altre appunto di violenza domestica come tutte quelle che ogni giorno o quasi scorrono sui titoli dei telegiornali se non fosse per il fatto che come se ci trovassimo in un in un romanzo noir in un giallo magari scaturito dalla penna del signor carlo lucarelli la vittima reagisce e si trasforma lei stessa in carnefice e allora per capire meglio chi era davvero Milena Quaglini se vittima o se carnefice proverei a ricostruire a partire dalla ricostruzione della sua parabola criminale insieme al nostro caro Giacomo Giacquinto ciao a tutti gli amici di non spegnere la luce ciao Michele ciao Carlotta ciao ragazzi del gruppo telegram io ormai lo sto dicendo da un numero di puntate in decifrato però non va benissimo così perché Michele ogni tanto la mattina mi manda questi messaggi con la nostra faccia la nostra lucandina in posizioni stranissime delle classifiche italiane ragazzi io non so che dirvi cioè per me tutto questo è paradossale per questo grazie due volte grazie col cuore perché siete quella ventata d'aria fresca in un periodo così difficile ma detto questo partiamo subito con la storia di oggi perché la storia di oggi anche la citazione che l'accompagna che ho scelto per introdurla ha una storia di per sé particolare beh io volevo partire da Misery il celebre romanzo di Stephen King che in un certo senso racconta una storia sotto certi aspetti simili e da qui è stato tratto il famoso film tra l'altro con premi Oscar Misery non deve morire poi però mi sono ricordato di una citazione che avevo segnato sul mio quadernetto delle citazioni dopo aver visto una puntata di una serie discretissima firmata di sì che erro e la frase la parola assassina è stata vittima di molti abusi linguistici il suo vero significato è stato celato sotto i sedimenti di menzogne e falsità in verità assassino viene da ascissia coloro che sono ai margini della società e coloro che sono i margini della società di solito sono quelli che non possono denunciare sono i reietti sono i freak sono tutte quelle persone che a causa di un sistema burocratico latente e di un sistema legale con troppe falle e soprattutto governato da troppi uomini e da troppo patriarcato molto spesso pone ai margini del silenzio e quindi ai margini di una relazione le persone una cosa simile è accaduta alla nostra protagonista di oggi Milena Quaglini che è nata a mezzanino il 25 marzo del 1957 e che ha un ruolo così importante nella nostra storia perché di assassine seriali italiane non ce ne sono state molte e il suo caso è del tutto particolare come se ci fosse una sorta di filo di arianna sempre per restare in tema di grandi donne grandi omicidi e che l'abbia seguita e perseguitata per tutta la sua vita ovvero riconoscere nel maschilismo il trigger per i suoi omicidi nasce come vi dicevo nel 1957 a mezzanino nei pressi di broni nell'oltrepo pavese si diploma in ragioneria a pavia quando ha 19 anni che anche il momento in cui decide di scappare di casa il motivo principale della sua fuga risiede in suo padre che è alcolizzato ed è molto violento sia con la madre sia con lei va a vivere tra como e lodi ma occhio perché la figura del padre è il primo segnale di un quadro molto più ampio provate a immaginare il quadro delle scale di eisnell credo sia ma non vorrei dire una stupidaggine dove tutto nella poetica dell'artista va in salita fino al punto focale ecco se volessimo prendere quel quadro e applicarla alla storia di milena quaglini potremmo inserire il padre nel gradino sottostante di una costruzione psicologica che avrà in questo come vi dicevo prima la base del suo modus operandi vive tra como e lodi e lavora fa anche dei piccoli lavoretti per esempio come cassiera come badante e anche come donna delle pulizie si sposa ed ha anche un figlio di nome dario ma suo marito si ammala gravemente di diabete e muore da questo avvenimento lei cade in una depressione che tra i vari tasselli della nostra scala fittizia e di quel motivo per cui verrà posta ai margini della società è un altro tassello fondamentale perché subito dopo la morte del marito comincia a bere e sviluppa una grave dipendenza dall'alcol si sposta a vivere da un'altra parte a travacosi comario e a san martino siccomario dove aveva trovato un altro lavoro conosce mario fogli che diventa il suo secondo marito ecco questa persona si dimostra un prevaricatore un ossessivo una persona patologicamente gelosa considerate che smise che costrinse sua moglie a smettere di lavorare in quanto era assolutamente certo in una visione tutta paranoica della vita che prima o poi la moglie lo avrebbe tradito con qualche collega di lavoro e lavorava come camionista e anche lui aveva dei problemi con l'alcol tra l'altro entrambi giusto per raggiungere utili al dilettevole o beffa al danno che dir si voglia erano anche attivisti della lega nord e già questo già su questo potremmo aprire un escursus antropologico parallelo quaglini ebbe milena ebbe due figli da lui quando però gli ufficiali giudiziari si presentarono a casa sua per un pignoramento di beni a causa dei debiti che suo marito aveva accumulato decise di separarsi e di andare ad abitare ad este con le due figlie più giovani qui in veneto lavora come portinaia di una palestra ma i soldi mancavano e i debiti di certo non aiutavano quindi trovò lavoro anche come badante presso un anziano signore giusto dalla pozza che aveva 83 anni che addirittura per aiutarla le prestò 4 milioni di lire e utilizzò la cosa per ricattarla ancora una volta un uomo crudele si impossessa della sua vita e ne diviene il burattinaio ancora una volta quel marchio speciale di persona estromessa ai margini della società continua ad avanzare scala su scala mentre ci ascoltate provate a chiudere gli occhi a meno che non siate alla guida ovviamente chiudete gli occhi e immaginate davvero quel quadro immaginate questa scala che sale e arriva a un punto preciso quasi a una porta buia il 25 ottobre del 1995 dalla pozza disse a milena che poteva restituirgli i 500 mila lire al mese diciamo come tassa di pignoramento oppure poteva pagarlo in natura milena rifiutò e a quel punto lui cercò di violentarla nacque una collutazione nella quale milena più giovane e più in forze lo colpì con una lampada in testa poi uscì di casa mentre dalla pozza era agonizzante e chiamò l'ambulanza al momento dell'arrivo dei soccoritori l'uomo era ancora vivo ma morì dieci giorni dopo ma attenzione milena non venne incolpata di questo omicidio che venne addirittura archiviato come accaduta accidentale fino alla sua confessione quando riceverà 20 mesi di reclusione per eccesso di legittima difesa storia che in italia funziona e non funziona ritornò in lombardia a broni per convivere di nuovo con il suo precedente marito mario fogli da cui si era separata l'amore e l'idiglio iniziale del ritrovato fidanzamento venne subito però interrotto dalle liti e milena tornò a bere e ad assumere anche diversi e tanti antidepressivi che come molti di voi sapranno creano anche un'elevata dipendenza tentò il suicidio dopo aver ingerito una massiccia dose di sonniferi tagliandosi le vene di entrambi i polsi ancora un tassello su quella scala e quella scala ci porta a una data precisa il 2 agosto del 1998 quando dopo l'ennesima litigata in stato di ebrezza estrema a causa dall'alcol uccise il marito mario fogli che cosa fece aspettò che lui si addormentasse misi a letto le due bambine strappò la corda di una tapparella e la utilizzò per incutere paura per provare a strangolare mario nacque così una collutazione in cui il marito cercò inutilmente di sopraffarla lei allora lo colpì con un portagioie e poi terminò l'opera strangolandolo sempre con la corda della tapparella avvolse il corpo del marito nelle coparte che erano ovviamente sporche di sangue e poi in un tappeto che mise sul balcone alle 16 chiamò i carabinieri di stradella e disse confessò di aver ucciso il marito i carabinieri la tennero al telefono e si fecero dare l'indirizzo dopo passò il telefono alle figlie e queste affermarono e confermarono che nel tappeto del balcone c'era il cadavere di loro padre ecco michele prima citava diciamo carlo lucarelli che lui conosce anche molto bene se avete letto almost blue di carlo lucarelli ricorderete che c'è una scena simile dove il suono del telefono in quel caso il suono della radio ha una certa valenza anche in questo caso sembra proprio una storia di un giallo di un noir della milano degli anni 60 e 70 non so dei gialli di sciarbanenco ovvero quell'elemento del quotidiano che diventa inquietante perché si sposa l'innocenza immaginate la scena dei carabinieri passano il telefono e le due figlie confermano sì nel tappeto sul balcone c'è il cadavere di mio padre voi come avreste reagito milena venne arrestata e per questo omicidio venne condannata a sei anni otto mesi da scontari ai domiciliari grazie alla riduzione della pena per semi infermità mentale venne inviata in una comunità di recupero per alcolizzati ma dopo qualche mese ricominciò comunque a bere e allora venne portati in una nuova comunità dove conobbe un altro uomo che avrà un ruolo importante nella sua vita un ex carabiniere di nome salvatore che le offrì ospitalità ma dopo due giorni sempre perché quando si è ai margini della società c'è un burattino che li tira cercò di violentarla grazie a un annuncio una sorta di tinder antelitteram conobbe angelo porello che aveva scontato precedentemente sei anni e mezzo di carcere per violenza sessuale ai danni delle sue tre figlie il 5 ottobre del 99 quaglini lo uccise nella sua casa di bascapè dopo che lui aveva detto di indossare degli abiti provocanti lei si rifiutò e lo schiaffeggiò e così lui la schiaffeggiò e poi la violentò per due volte stava per farlo una terza volta porello l'aveva addirittura avvisata teneva il conto di quello che stava facendo come una narrazione dell'orrore come una sorta di staff movie allora milena lo convince con una stratagemma nel primo pomeriggio a prendere un caffè preparato da lei nel quale aveva sciolto 20 pastiglie di tranquillante che lei era solita utilizzare quindi insieme alla ricetta era molto più semplice per lei ottenerlo porello si addormentò in pochissimi secondi e milena spostò il corpo nella vasca da bagno che riempita d'acqua fino all'orlo e dopo qualche ora torno a casa e lui era morto proprio per affogamento con diverse situazioni che di solito accompagnano anche un corpo quando viene affogato quindi diciamo la perdita del controllo sfinteriale anche una lauta presenza di vomito arrivata la sera sposto il cadavere nella concimaia in giardino per terminare l'opera i farmaci che vennero trovati nella casa e le tracce di dna la portarono alla confessione venne arrestata poco dopo mentre si trovava sull'auto di porello e ritornò in carcere il 20 ottobre dopo solo due settimane dall'omicidio venne scoperto il cadavere in decomposizione venne condannata a scontare la pena nel carcere di vigevano vigevano perché sappiamo che gli accenti hanno una certa rilevanza per il nostro pubblico per cercare di superare la depressione riprese a dipingere perché aveva questa grande passione per la pittura e da questo il motivo per cui vi parlavo prima di un quadro ma raggiunta oramai al termine di quella che era la corsa del profondo stato depressivo nella sua vita si impiccò con un lenzuolo il 16 ottobre 2001 venne trovata persino viva da una guardia carceraria l'1.50 del mattino ma morì pochi minuti dopo alle 2.15 nel pronto soccorso perché vedete come diceva quella frase è tratta da la serie Arrow questa serie discreta della DC ma che in questa frase ha un po' il senso generale delle cose o almeno delle cose che io racconto la parola assassino è stata vittima di molti abusi linguistici e di molti abusi sono vittime anche ogni giorno le donne le donne di tutto il mondo solo oggi io sentivo tre storie mentre preparavo la puntata quasi paradossale ma il vero significato è stato celato sotto i sedimenti di menzogne e falsità perché in verità assassino viene da scissia coloro che sono ai margini della società e chi sono quelli che sono ai margini della società coloro che sono costretti in silenzio e allora ringrazio Giacomo per questo soprattutto per questo intervento finale su cui mi trovo molto d'accordo perché uno stato che non protegge le minoranze non è non è uno stato che può vantarsi di essere civile per quanto mi riguarda sai Michele noi ovviamente non dovremmo parlare delle cose delle donne perché non siamo donne ma per me in uno stato in cui si chiede ancora come rivestita quella sera è profondo imbarazzo dover dire in giro io sono italiano quando il mio paese chiede a una donna stuprata una cosa del genere è una cosa che mi imbarazza particolarmente perché vuol dire che non avete capito nulla di che cos'è una violenza assolutamente ma anche stando qui vivendo un'area diversa ci si rende conto proprio di tutta la differenza che c'è e di quanto siamo siamo ancora indietro su questi argomenti e adesso però voglio tornare dalla nostra ospite perché preparando questa puntata quello che è venuto fuori è proprio il fatto che io voglio che ci si concentri su questa ambiguità che anche quello che rende il personaggio di Milena Quaglini così affascinante tra vittima e carnefice e sarà diciamo il nostro intento durante tutta questa intervista capire se appunto lei sia più vittima o più carnefice ma alla fine non so se arriveremo a una risposta concreta anzi come sempre noi diamo cerchiamo di dare degli spunti in questa ora che abbiamo a disposizione ogni settimana però le riflessioni devono essere anche e soprattutto le vostre e allora voglio partire proprio da qui insieme alla nostra ospite dalle origini della del personaggio di Milena Quaglini perché spesso per quanto secondo me non non si dà abbastanza importanza al background di una persona agli anni di formazione che sono i primi anni di infanzia che in realtà sono sono fondamentali per creare poi la persona all'adulto che che si diventerà e allora voglio partire proprio da da questi abusi che Giacomo ci ha citato giustamente a passando all'inizio del suo intervento che da parte del padre che sono stati i primi della sua vita e che paradossalmente però sono stati sono diventati poi una costante nella nella vita della della Quaglini che quasi come se fosse vittima di una sorta di sindrome di stoccolma sembrava andarsi a ricercare proprio uomini che come il padre la maltrattavano non so se questa sia una coincidenza però io voglio sentire anche il punto di vista di Carlotta su questo argomento grazie Giacomo per questa stupenda introduzione grazie Michele sì è molto importante andare a studiare il rapporto con il padre con la famiglia d'origine e le origini proprio del climax che avviene nella mente del serial killer in particolare per quanto riguarda la Quaglini noi notiamo una componente di vendetta per compensare tutti quei traumi che sono stati originati dalla figura paterna ci ho tenuto molto a estrarre alcune parole che Milena ha dichiarato durante i processi lei ha dichiarato non ne potevo più di essere picchiata ogni schiaffo che prendevo da un uomo ricevevo di nuovo tutti quelli che avevo preso da mio padre io sopportavo sopportavo finché non facevo qualcosa di intollerabile che mi faceva esplodere allora quando mi scattava quella reazione dentro mi veniva una forza tremenda incontrollabile non riuscivo a fermarmi fino a quando non respiravo più questo è un po il problema perché il mondo interiore di chi cresce in un clima di violenza è modellato esclusivamente sulla violenza in alcune famiglie noi purtroppo sappiamo che i maltrattamenti sono un linguaggio quotidiano e molti bambini vi crescono in mezzo imparano a parlare questo tipo di linguaggio cominciando per esempio dagli insulti dai pugni dagli schiaffi questo per loro è normale del resto per il minore non può essere accettati l'idea che la madre o addirittura il padre siano cattivi pensano che se la madre il padre li sgridano è perché loro sono dei figli cattivi ed è giusto così così iniziano ad avvalersi di questa convinzione che non valgono nulla e meritano quel disprezzo quelle punizioni ed è questa una certezza che accompagna il minore tutta la vita lo danneggia e lo danneggerà anche in futuro e in ogni altro rapporto interpersonale che il soggetto avrà appunto con gli altri soggetti ma forse la cosa più faticosa da sopportare quando vivi in questo clima di violenza è che non hai nessun tipo di controllo sulla realtà che ti circonda perché per quanto tu cerchi di rispondere ai desideri che vengono reclamati dall'altro tu non sarai mai abbastanza non farai mai abbastanza e quindi commetti qualche errore che desta di nuovo la necessità di violenza ed è conseguenza di altra violenza allora soprattutto per quanto riguarda la donna la donna si chiude in sé per non creare nessun dubbio nessun sospetto nella mente di un marito di un padre nel caso di melena quaglini entrambi anche una banale chiacchierata con la vicina di casa poteva essere un errore fatale perché poi arrivavano altre percosse altri soprusi poi cosa succede nella testa di milena scatta qualcosa non ce la fa più a sopportare e subire e da qui l'argomento che ha trattato giustamente giacomo sulla legittima difesa la sorabbia aumenta aumenta prima nascono soltanto delle fantasie di natura violenta che poi però un giorno si trasformano in realtà ecco mi trovi d'accordo per lotta su questo però io credo c'è un dettaglio che che mi ha stupito e cioè il fatto che il suo primo marito credo che si chiamasse enrico correggetemi se sbaglio era in realtà una persona che aveva un'ottima considerazione di milena che insomma la trattava nel modo nel modo giusto con rispetto e sono stati forse gli anni più felici della sua vita appunto parlavamo delle sue dichiarazioni lei ha detto anche questo che con questa persona lei si era trovata molto bene e allora la domanda che mi faccio giusto per continuare su questa linea che abbiamo iniziato a tracciare è proprio questa si era effettivamente in grado di riconoscere quando qualcuno la trattava nel modo nel modo giusto perché poi una volta morto questo primo marito per diciamo una una malattia grave poi era anche insomma un po più vecchio di lei è andata diciamo a ricercarsi a infognarsi di nuovo in situazioni simili a quelle da cui lei originariamente era scappata perché lei scappò di casa quando non aveva ancora neanche vent'anni perché all'epoca il fatto di sposarsi con un uomo già divorziato non era una cosa accettata dalla società e quindi lei è stata un po rinnegata dalla sua famiglia ma allo stesso tempo è avuto anche il coraggio di scappare via da tutto quello perché poi ritornarci con tutti e due i piedi dentro perché lo stesso meccanismo che purtroppo ha subito durante tutta la sua vita il primo marito di milena quaglini è stato l'unico differente rispetto a tutti gli altri uomini della vita di milena compreso il padre dopo la morte del marito che primo marito che è stato l'unico uomo che effettivamente l'ha fatta felice milena è tornata in questa spirale di violenza di droga di di alcol che purtroppo l'hanno riportata sulla cattiva via esattamente come era all'interno della famiglia di origine esattamente lei ha riportato il medesimo meccanismo nella sua propria famiglia quindi con il suo nucleo familiare ma moglie madre marito e figli bene e allora la domanda che mi sorge spontanea e che credo che tanti dei nostri ascoltatori da casa si stiano facendo e è proprio relativa a questo lei dopo questo dopo la morte di questo primo marito ha trovato un altro compagno maro mario fogli che la maltrattava poi insomma sappiamo anche com'è finita ma nel frattempo aveva iniziato a lavorare a casa di questo signore anziano che già come ci ha raccontato che si chiamava giusto dalla pozza che insomma la aveva presa con sé come colf le aveva anche prestato dei soldi e poi però come spesso accade purtroppo in tanti casi essendo a conoscenza del suo stato di necessità aveva provato anche ad approfittarsi di lei sessualmente e quello è stato il cosiddetto trigger cioè il momento in cui Milena per la prima volta non ci ha visto più e di fronte a questo diciamo a questa aggressione ha preso in mano una una bajur una lampada e della spaccata sulla testa e questo signore giusto dalla pozza è morto quindi potrebbe essere un caso come tanti altri di legittima difesa magari si potrebbe discutere su questo e magari lo faremo però c'è un elemento di cui noi parlavamo prima a microfoni spenti che è quello cioè che il fatto che Milena inizialmente era scappata via da casa di questo signore però avendo le chiavi era poi è ritornata sulla scena del delitto fingendo di ritrovare il cadavere e chiamando la polizia insomma lei per questo caso era stata indagata ma non non aveva non c'era stato alcun riscontro dal punto di vista giuridico credo che non sia stata neanche effettuata un autopsia sul corpo di giusto dalla pozza e quindi insomma l'aveva l'aveva fatta liscia poi si scoprirà si scoprirà che le aveva commesso anche questo omicidio soltanto perché lei stessa lo confesserà verso verso la fine della sua vita e allora voglio chiederti questo carlotta c'è in questa tutta questa situazione un elemento doloso da parte di di Milena o se c'è o meno voglio chiederti nel senso che se lei veramente avesse voluto difendersi se fosse stata una cosa così impulsiva non avrebbe potuto chiamare direttamente la polizia lì sul posto dopo aver compiuto questo atto perché ritornare poi sulla scena del delitto e fingere il ritrovamento del cadavere questo che già inizia a a non convincere il caso quaglini è esemplificativo della modifica del modo superandi nei serial killer donne e anche uomini realtà qui trattiamo eh di di una donna e è bella proprio l'escalation del mondo superandi che cambia nella sequenza diventa decisamente più elaborato nel secondo e nel terzo delitto rispetto al primissimo delitto come avete detto bene l'acquaglini colpisce il della puzza alla testa usando la classica lampa la bajour come corpo contundente e poi scappa via non c'è una premeditazione non c'è occultamento del cadavere né una modificazione della scena del crimine quindi siamo ad un primissimo livello di organizzazione criminosa quando la killer ritorna sulla scena e finge quindi la scoperta casuale del corpo confermo effettivamente che eh inizialmente eh il fatto è stato archiviato come morte accidentale stante la non più teneretà eh del signor della della pozza di 83 anni che appunto viene trovato riverso sul pavimento seppur col cranio fracassato immerso in una pozza di sangue e col comodino sopra al suo corpo è soltanto dopo la confessione dell'omicidio di porrello che iniziano eh a capire gli inquirenti che ipoteticamente ci potrebbe essere una differente lettura eh dei fatti eh sul ritrovamento anche della scena del delitto del modo in cui viene trovato il corpo del modo anche in cui la la killer si eh accanisce in particolare ecco sul viso sono tutti dei metodi di analisi che fanno capire molte cose eh di solito agli inquirenti anche il luogo dove viene colpita la persona eh fa capire appunto che se viene colpito sul viso è una persona che eh è a noi noto piuttosto che altre parti del corpo quindi è molto interessante questa modifica del modo superandi eh ovviamente qui escludiamo la premeditazione cosa invece che è evidente eventualmente nella eh secondo e terzo caso addirittura eh nel secondo la vittima è resa inoffensiva e poi viene uccisa nel terzo caso il cadavere viene trasportato fisicamente in un altro ambiente quindi pensate anche a questo sforzo fisico di una donna comunque dal fisico minuto che trasporta un cadavere eh presso un altro ambiente e nel secondo si nota appunto questa equazione a confessare un impulso interno eh quasi per liberarsi che costringe la Quaglini appunto a chiamare i carabinieri come ha detto Giacomo alla presenza delle figlie perché nascose il cadavere arrotolato in un tappeto sul balcone di casa davanti alle bambine nella nel terzo omicidio abbiamo un'ulteriore evoluzione perché il cadavere viene trasportato all'esterno di quella che è considerata la scena del crimine quindi si verifica un tentativo di occultamento ben preciso che era mirato a non farsi scoprire eh la Quaglini eh come classificazione dell'omicida seriale viene classificata come individuale con movente situazionale a vittimologia maschile con un grado di pianificazione però parziale sono tutti casi che sono caratterizzati da un fatto di essere causati in parte da un impulso improvviso che si impadronisce dell'assassino e questo in questo soggetto si nota il desiderio di uccidere che si ripete inalterato in ogni situazione analoga attenzione noi per avere un serial killer dobbiamo avere almeno tre omicidi sia in caso di sesso femminile che in caso di sesso maschile e gli assassini che rientrano in questa categoria sono persone particolarmente impulsive con scarso controllo dell'aggressività e difettano di sangue freddo per affrontare di una situazione di stress e questo calza a pennello con quella che è la descrizione di Milena che è stata fatta da Giacomo poco fa sì facciamo un passo indietro però Carlotta perché abbiamo preso un po' la rincorsa e ci sono degli elementi che io voglio analizzare di ciascuno di questi singoli omicidi la cosa che mi stupisce di più è che appunto essendoci stata questa componente violenta sul primo omicidio su quello di giusto dalla pozza appunto questa questa lampada scagliata sulla faccia quindi una morte molto violenta con conseguente trauma cranico ovviamente e mi stupisce che nessuno abbia pensato di fare una patuzia spesso accade insomma che quando si tratta di persone anziane lui aveva più di 80 anni ovviamente si giustifichi tutto con una una caduta in casa insomma un urto contro uno spigolo però non so quanto potesse reggere questa 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 tesi e va bene è andata così la quaglini non è stata incriminata però ecco un elemento che mi colpisce particolarmente e che fa parte di questa evoluzione di cui tu parlavi poco fa è sempre questo elemento della della lampada come arma contundente perché non è chiaro se nell'omicidio di mario fogli che appunto il suo secondo merito lei avesse intenzione di ucciderlo subito oppure se l'omicidio sia stata una conseguenza del fatto che lui essendo stato incaprettato legato con queste corde della della tapparella abbia provato a reagire e lei abbia utilizzato il primo oggetto contundente che è venuto in mente per per appunto stordirlo e questo oggetto fatalità è stato proprio una una lampa già come prima diceva portagioia però insomma era una lampada ornamentale da comodino e interessante che sia stato ancora una volta una lampada quindi troviamo degli elementi tipici dei degli assassini seriali cioè anche una una certa ritualità una certa coazione ripetere come come dicevi tu prima forse siamo entrati troppo nel dettaglio specifico abbiamo parlato troppo legalese proviamo proviamo a spiegarlo anche a chi da casa non sia esperto di queste di queste materie quindi la domanda che mi faccio quello che mi sono chiesto io quantomeno ripercorrendo questa storia e proprio se lei avesse intenzione innanzitutto di uccidere mario fogli o meno o se sia stata una conseguenza e soprattutto se uccidendolo lei ci abbia preso gusto sono tutte bellissime domande si va un po sul legalese perché sono cose molto tecniche credo che entrare nella psiche di un serial killer sia una delle cose più difficile più affascinanti che ci possono accadere un cadavere ovviamente racconta tantissime cose agli esperti della scena del crimine tornando all'arma del delitto ovviamente sì l'utilizzo frequente di un portagioie di una lampada di un accessorio da toiletta può essere un'arma particolarmente utilizzata proprio perché Milena ha sempre colpito all'interno dell'abitazione domestica generalmente l'utilizzo consoeto di uno stesso mezzo per uccidere il soggetto verso cui la violenza indirizzata può far pensare a un delitto premeditato oppure a un cosiddetto omicidio d'impeto cioè quando io ho una spinta passionale una rabbia dentro così tanto importante pari anche al numero dei colpi che io faccio su questo soggetto e quali parti del corpo sono state prese di mira attenzione ricordiamo nel primo caso Milena si accanisce sul viso della vittima e questo significa che conosceva bene questa vittima il fatto che ritorni sul luogo del delitto anche questo è curioso come invece lascia fuori di casa il secondo marito e fa sparire all'interno della concimaia il terzo cadavere sono tutte cose molto particolari mi lascio anche un po di dati statistici giusto per capirci meglio anche per comprendere che tipo di dominio vuole avere un serial killer sulla sua scena del crimine innanzitutto i soggetti che restano sul luogo del delitto lo fanno per affermare il controllo totale sulla scena e sul cadavere quindi noi ricordiamo Milena si sbarazza del corpo oppure va via dopo l'uccisione in una buona percentuale dei casi siamo oltre 60 per cento il cadavere viene lasciato lì e soltanto un 10 per cento viene trasportato altrove ancora altri killer si allontanano dall'omicidio per sottrarre dei soldi documenti oggetti altri cancellano le loro tracce Milena non è una di queste Milena non uccide per soldi non uccide per asportare degli oggetti e non cancella le sue tracce e sul discorso del rimorso e del fatto che non sopporta la vista delle vittime ricordiamoci che le ricopre e le nasconde nel per caso del secondo marito fino all'arrivo della polizia questo fa Milena perché non riesce a sopportare neanche l'idea di aver ucciso il marito e forse vuole evitare vuole proteggere quelle due piccole bambine che stanno facendo colazione con lei non sanno che loro papà è avvolto in un tappeto all'interno del balcone e invece per il terzo delitto questa telefonata che le vengono la vengono ad arrestare è particolare anche il ritrovamento del cadavere non voglio andare troppo avanti all'interno della concimaia e dice tanto anche questo su il metodo e quello che voleva dire Milena perché Milena attraverso questi amicidi vuole dirci delle cose ogni cadavere parla anche se non può parlare e ogni siri archiviera ha tante cose da dire e sono persone lasciate ai margini della società come diceva giustamente Giacomo ma che hanno tanto da dire quindi li facciamo parlare attraverso attraverso questo per esempio per quanto riguarda Angelo Porrello viene denunciata la sparizione della figlia 15 giorni dopo addirittura non si hanno più notizie di questo povero soggetto e l'ex moglie di Porrello entra in casa con un'amica e per cercare questo questo soggetto sostanzialmente disperso e lo trovano all'interno di questa di questa letamaia una volta arrivati alla concimaia loro sollevano il coperchio in lamiera e trovano il corpo della terza vittima in questo avanzato stato di potrefazione nudo completamente nudo anche questo è un elemento molto importante che ci descrive la nostra killer il massimo disprezzo possibile da parte dell'assassina e tra l'altro anche il desiderio di spostare il corpo cosa che non aveva fatto nei primi due nei primi domicili milena vuole spostare il corpo nel tentativo di occultarlo ed ecco qui la premeditazione al terzo che il terzo delitto si arriva all'evoluzione completa messi di archilla si crea un alibi per il delitto perfetto facendosi però arrestare il giorno dopo esatto secondo me il terzo delitto è proprio quello in cui si completa la sua evoluzione da vittima carnefice io volevo arrivare proprio qui si è parlato di occultamento nel caso di angelo corrello lasciato lì nella concimaia a parte l'elemento della forza fisica che ci vuole proprio per trascinare un cadavere di un uomo adulto all'interno di fuori dall'esterno di un'abitazione fino a questa concimaia però non so se lei volesse proprio occultarlo questo questo cadavere e perché potrebbe essere anche un elemento di scherno nei confronti della della vittima il fatto di lasciarlo di lasciarlo lì tu hai detto questo povero uomo sì certo tutte le vittime insomma sono da compatire però si trattava comunque di un uomo che era stato in carcere per dei precedenti credo proprio di violenza sessuale e anche nei confronti della stessa milena come ci aveva raccontato il nostro giacomo si era si era comportato in maniera analoga maltrattandola e abusando di lei e abusando ancora una volta della sua posizione di precarietà di necessità e io credo che la vera e propria evoluzione si verifichi proprio qui quando milena assume un po' questa questo compito autoriferito e autoconferito a se stessa di angelo vendicatore di donna che vendica le donne e quindi c'è c'è un po' un delirio secondo me nella fase finale della sua carriera da serial killer non lo so non lo so tu cosa ne pensi e voglio farti appunto questa domanda che è relativa a tutta questa evoluzione cioè tutto nasce da un caso di abuso di legittima difesa quello di giusto dalla pozza e si arriva a un caso di omicidio premeditato questa volta sì perché insomma lei aveva aveva drogato il marito aveva drogato porrello che non era marito era un compagno con questi tranquillanti e quindi lì sì che c'era premeditazione assolutamente sì condivido le tue parole ho parlato di povero uomo perché di solito ci si riferisce sempre alla vittima con questo termine tuttavia durante l'esposizione mediatica di questi lunghi tempi processuali è stata milena quella indicata come la povera donna al tempo immaginate anni fine anni 90 2000 una donna totalmente incensurata appena separata da un marito violento con alle spalle un procedimento che si conclude precesso di legittima difesa un'accusa per un sorricidio lì è stato molto intelligente illegale la legale lì c'è sardo che è riuscita a ricorrere molto bene in appello presentando al collegio tutti i problemi legati a questo mondo di dipendenza di sostanze da alcol infatti lei ottiene anche gli arresti domiciliari come ha detto giacomo viene ricoverata in una clinica per il trattamento della dipendenza i giornali la descrivevano come la povera casalinga maltrattata che dopo l'ennesimo abuso ha dovuto agire quindi aveva un grandissimo consenso mediatico e anche grazie a questo consenso mediatico che lei prende il suo ruolo di angelo sterminatore e quindi fa tutto quello che avrebbe voluto fare nei confronti di questi uomini che avrebbe voluto fare in realtà a suo padre assolutamente assolutamente carlotta mi trovi mi trovi d'accordo tutto tutto quanto lineare e io credo che abbiamo fatto un pochino chiarezza su questa sua evoluzione è un altro elemento che mi piacerebbe affrontare prima di andare in conclusione di questo episodio e quello del suo suicidio perché l'abbiamo detto l'ha raccontato giacomo ma entriamo un po nel dettaglio su questo perché Milena è morta in carcere è morta insomma dopo è morta prima del processo per per la per l'assassinio di porrello consapevole del fatto che insomma avrebbe avuto una condanna molto molto pesante e si è però suicidata in una maniera particolare si è suicidata appendendosi praticamente all'interno di di una di un armadio nel nel carcere diciamo impiccandosi da da una barra di alta un metro e cinquanta e quindi non so se riuscite a immaginarvelo spero spero di no per i più sensibili di voi però è anche molto difficile dal punto di vista logistico fare commettere un atto del genere ci vuole veramente una grande determinazione e io so che che carlotta si occupa da diverso tempo di carceri italiane di condizioni dei carcerati all'interno delle di queste strutture e hai un progetto anche che si chiama sbarre di zucchero non so se ci vuoi parlare di di questo tuo progetto e di come si relaziona a casi come quello della quaglini intanto partirei assolutamente dal suicidio di milena quaglini noi ovviamente sappiamo che milena era aveva già tentato il suicidio più volte ancora prima di di processi penali sappiamo di questa di questo trattamento della della dipendenza da sostanze e da alcol che era già stato rappresentato ai vari tribunali veniva descritta come la poverina la casalinga maltrattata che così assumeva una serie di di sostanze è arrivata fino a una grande depressione era completamente immersa nell'alcolismo la corte d'assise il 24 ottobre 2001 quando si riunì per il processo purtroppo dichiarò l'estensione del reato proprio perché milena si era suicidata all'interno della cella qualche giorno prima purtroppo secondo gli ultimi dati del consiglio d'europa noi ci collochiamo eh al decimo posto fra i paesi con il più tasso eh di alto tasso di suicidi all'interno del carcere e dalle storie di detenuti emerge come ci sono tantissime situazioni di disagi psichici sono persone che non devono essere trattate all'interno del carcere perché il carcere è un detonatore psicopatogeno del disagio psichico che se non diagnosticato diventa più cappellare ed è una situazione purtroppo omogenea su tutto il territorio italiano e il fatto che ci sia tanta sofferenza tanta fragilità umana numeri così alti come quelli dell'anno scorso ovviamente ci devono fare riflettere siamo già quasi a venti nel 2023 l'hanno appena iniziato è indicatore di malessere in tutta la società sia dentro fuori dal carcere un malessere eh di un sistema che necessita di tanti cambiamenti pensavo che è uscita da poco la seconda relazione del garante Emilia Romagna di questo secondo semestre il garante dice parlo dell'Emilia Romagna perché io sono di Bologna dietro i numeri c'è la storia di uomini e donne adolescenti anche rinchiusi scoraggiate molte volte anche abbandonate loro stessi e questo è triste tra l'altro è stata emanata una circolare del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dove si invita a un attento uso dell'irica il lirica è un farmaco che viene usato per la cura delle patologie come il disturbo d'ansia generalizzato e Milena veniva trattata con l'alcion che era un potente sonnifero l'alcion è stato utilizzato poi anche in uno dei suoi delitti come farmaco per avvelenare una delle delle sue vittime esattamente come hanno fatto tanti altri serial killer ben note qui in Italia purtroppo cosa succede che in carcere molto spesso i detenuti e le detenute dividono a metà le capsule innalano il contenuto di modo da raggiungere effetti simili a quelli che vengono offerti dall'uso della cocaina quindi altamente eccitanti l'assunzione chiaramente una reazione costritta ai detenuti che sono destinatari della prestazione sanitaria ma purtroppo si estende a tutti gli altri reclusi questo uso improprio come meccanismi di scambio devono essere assolutamente dissuasi e questo è il senso della circolare dell'amministrazione penitenziaria come vedete quanta tristezza c'è fuori delle mura tanta tristezza c'è anche dentro e molto spesso noi non ne veniamo a conoscenza perché abbiamo un'idea del carcere di persone abbandonate loro stesse dove è meglio alle volte buttare via la chiave ti ringrazio per la menzione a sbarre di zucchero non siamo ancora un'associazione attualmente è un gruppo di persone di volontari siamo nati a fronte di un suicidio avvenuto in uno dei carceri italiani ad agosto dell'anno scorso era una giovanissima mamma di 27 anni aveva partorito da pochissimo e ha lasciato un biglietto da dio per il suo fidanzato lei aveva una progettualità di vita ben diversa da quella che si prospettava per la vita della nostra milena quaglini doveva andare a vivere a convivere con un fidanzato giovanissimo anche lui aveva un lavoro che l'aspettava lei lascia questo biglietto di addio perdona mi si forte ti amo e anche lei si è uccisa all'interno della della società della della cella carceraria parlare di carcere noi lo sappiamo non porta assolutamente voti inizialmente abbiamo parlato di attivismo della lega nord purtroppo parlare di carcere non porta voti da nessuna parte ahimè c'è tanto disinteresse nei confronti di questa situazione all'interno dei penitenziari e sbarre di zucchero nasce per riaccendere i riflettori soprattutto sul carcere femminile perché voi dicevate prima siamo uomini non possiamo parlare di donne io vi invito anzi a parlare di donne perché è importante che ne parliamo tutti insieme non dobbiamo rimanere come dei piccoli panda che vanno protetti dobbiamo proteggerci tutti insieme per avere una società migliore sembra una piccola utopia ma quell'articolo 27 della nostra carta costituzionale che tanto racconta di garanzia di un carcere che possa attendere alla riabilitazione la risocializzazione dei condannati io ci credo ancora e allora sono sono parole nobili e ti ringrazio carlotta prendiamoci una pausa e torniamo dal nostro giacomo giacquinto per capire se ci sono dei film dei documentari da guardare per informarci di più su questo su questo argomento sì ci sono io intanto ti ringrazio carlotta per queste parole grazie bisognerebbe sempre lottare in un modo in un altro non sempre ci riusciamo e troppo spesso giriamo la faccia però vabbè benvenuti in italia allora dedicata alla storia di milena quaglini c'è per esempio ci sono un sacco di puntate di episodi una serie di documentari io ne ho selezionati alcuni dei più interessanti che è una puntata di linea d'ombra con massimo picozzi quindi sicuramente un esperto di criminologia dove la sua storia viene anche paragonata si crea questo parallelismo con una serial killer statunitense che forse conoscerete che alien urnos la celebre prostituta che uccise sette clienti con una pistola in florida oppure un altro beh sua maestà carlo lucarelli non poteva che dedicarle una puntata su crime investigation profondo nero ha dedicato proprio un episodio a milena quaglini guardatelo anche perché il taglio di lucarelli è sempre straordinario questo è innegabile è sempre un po il re della narrazione insieme a federico buffa e alberto angelo quindi poi abbiamo un programma che in realtà secondo me ha avuto troppo poco successo rispetto a quella che era la sua matrice di marco marra secondo me autore molto molto bravo anche conduttore molto molto bravo che stelle nere dove raccontava un po le figure femminili del mondo criminale ed era proprio una puntata dedicata a milena quaglini secondo me questi sono i più interessanti l'altro che vi consiglio lo trovate su youtube su bugalalla crime che io spesso cito perché credo che i contenuti siano molto interessanti ed è milena quaglini l'angelo sterminatore e guardatelo perché secondo me uno dei più interessanti sull'argomento e allora ringraziamo come sempre il nostro giacomo giacquinto e torniamo per la consueta domanda finale della nostra ospite carlotta per appunto delle delle riflessioni conclusive io ti volevo chiedere se innanzitutto secondo te ci sono altre vittime mai dichiarate della quaglini perché si parla di quest'uomo che sparito agli esi proprio nel periodo in cui la quaglini era in semi libertà è andata a vivere in quella cittadina nelle marche e poi maniera più generale spandendo il focus secondo te dalla tua esperienza se ci sono e quali sono le differenze tra serial killer uomini e donne e perché magari ce ne sono così poche conosciute dal pubblico come donne a bellissima domanda sì effettivamente si ipotizza un quarto delitto agli esi appunto nelle marche si tratta di un uomo morto misteriosamente nella sua abitazione proprio mentre la nostra quaglini viveva in quella cittadina però purtroppo non si trovano sufficienti prove a sostegno di questa ipotesi e oramai la sospettata non c'è più quindi penso che siamo ben distanti da far incalanare questo quarto delitto all'interno della progettualità di killer di Milena Quaglini sì ci sono tantissime differenze fra uomini e donne come giusto così siamo differenti anche per natura è molto bello se lo volete andare a leggere uno studio che ha effettuato Marissa Harrison che è una docente di psicologia dove specifica che resta colpita dal fatto che le donne uccidano prevalentemente per risorse perché la loro esigenza primaria ancora derivante dal nostro ambiente ancestrale è quella di recuperare le risorse mentre gli uomini prevalentemente uccidono più per la sessualità i serial killer purtroppo sono femminili sono un fenomeno poco studiato forse a causa della credenza culturalmente radicata che forse noi donne non siamo in grado di commettere questi delitti ma in realtà questo può risultare un equivoco micidiale pensate che negli Stati Uniti soltanto l'otto per cento dei casi totali dei serial killer sono di sesso femminile ricordiamoci però che per catturare un serial killer di sesso maschile ci vogliono di media quattro anni pensate che il numero degli anni che servono per catturare una donna serial killer si raddoppiano e anche il rimovente ecco che ne parlavamo prima che spinge una donna uccidere rispetto all'uomo è molto diverso perché molto spesso ne ricordiamo tantissime anche la povera Aileen che ha citato prima Giacomo uccidono mariti compagni compagni anche occasionali per dei vantaggi altri appunto sono noti gli angeli della morte ricordiamo anche Sonia Caleffi che addirittura usava come metodo il veleno quindi comprendete quanto sia difficile scoprire questi tipi di assassini e poi abbiamo la killer vendicatrice la famosa vedova nera che questa pregressa forte conoscenza con le sue vittime quindi si presuppone che sia più difficile identificarle per questo motivo per tanti anni noi donne non siamo state proprio considerate serial killer venivano considerati tali solo i casi cui non c'era un rapporto di conoscenza con la vittima stessa e magari le donne uccidevano nella maggior parte dei casi persone conosciute ma questo poi veniva sottaciuto come caso di violenza e allora io direi che su queste note possiamo chiudere la puntata di oggi io voglio ringraziare tantissimo la nostra ospite Carlotta Toschi e anche il suo gattino che ha insistito come avrete forse sentito per esserci nella nella puntata noi abbiamo avuto campane telefoni citofoni ambulanze abbiamo avuto di tutto questo ci mancava e quindi ti ringrazio anche per questo Carlotta dopo le campane del nostro amico Paolo Rendina abbiamo anche il gatto Olaf di Dark Diaries che è sempre una costante presenza ma a noi piace essere brutti sporchi e cattivi quindi rimane rimane tutto così senza tagli senza scapigliati è vero Giacomo ci piace? ma sì ma sì ma anche perché basta vedere un po' i miei profili social per vedere che io appartengo a questo stile di solito una delle cose che mi scrivono più spesso a proposito di fan club è proprio Giacomo tu hai il fascino del tossichello quindi immagina figurati io con scompigliati come vado d'accordo ma se qualcuno si chiede un po' le occhiaie di Giacomo penso che sia insonnia vero? è assolutamente insonnia io soffro quotidianamente di insonnia quindi vado avanti a fiori di bacca quasi eh sì però se non ci fosse questa insonnia non avremmo neanche l'artista che tutti i giorni potete ascoltare su questo podcast quindi insomma è un po' la vita un po' ti dà un po' ti toglie mettiamola così e lo stesso vale per i nostri ascoltatori che a volte ci danno a volte ci tolgono a volte c'è qualche critica a volte c'è qualche recensione a volte qualcuno scende di casa e va a scrivere sui imponi della propria città sono cose che capitano quello è il mio scenario preferito onestamente quando invece di fare le cose semplici no di andare a scrivere su Spotify una recensione con le 5 stelline oppure su Apple Podcast va bene sì l'abbiamo detto eh siamo stati su nelle classifiche siamo stati nei piani alti soprattutto su Apple che meraviglia eh però a noi non interessa veramente quello a noi interessa quando sappiamo che scendete di casa e andate a scrivere una recensione sui muri delle vostre città questa questa settimana ragazzi più di cento ascoltatori della Svizzera io vi vedo io vi vedo tutti nelle vostre casette nei vostri palazzi con i muri bianchi eh con le macchine volanti nel futuro basta io che non sapevo questa cosa della Svizzera faccio una richiesta ora che siamo nel momento dello sbrodolo uno dei miei sogni è vivere in Svizzera quindi se tra coloro che mi ascoltano che ci ascoltano c'è qualcuno che affitta una casa in Svizzera vi prego sul gruppo Telegram contattatemi scusate a me non arrivano le notifiche perché ho il telefono nuovo e non so come usarlo ma contattatemi su Instagram su Telegram su Whatsapp insomma dove volete perché io voglio venire a vivere là parliamo sui muri delle vostre città scrivete Giacomo c'è la casa per te ma io non sto scherzando fatelo veramente sì ospitiamo Giacomo Giacquinto adottiamo un Giacomo Giacquinto ma io l'affitto la casa la pago cioè assolutamente eh sì appunto ma sono sicuro che c'è qualcuno che ti vorrà adottare Giacomo Giacquinto assolutamente ma magari però fornitura di storie giornaliere assolutamente io vi sviglio e vi do la buonanotte raccontandovi storie se va bene come forma di pagamento altrimenti utilizzeremo il banale capitalismo oppure prestazioni sessuali no ma no non so quanto convenga all'altra persona più che altro scherziamoci dissociamo tutto questo io soprattutto mi dissocio ok 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 allora chiudiamola qui Giacomo stiamo sbrotolando malissimo se volete lasciateci una recensione sporchiamo la Svizzera e potete farlo su Spotify Apple sui numeri delle vostre città ma soprattutto veniteci a trovare sul gruppo Telegram siamo sempre di più facciamo amicizia conosciamoci perché ci piace vedere le vostre facce capire da dove venite chi siete che cosa fate quindi scriveteci veramente è la nostra cosa preferita noi vi ringraziamo per essere arrivati fino a questo punto siete ovviamente dei malati di mente se l'avete fatto scriveteci scriveteci un frutto no scriveteci casa per Giacomo in Svizzera è troppo lungo però scriveteci Svizzera mandateci la bandiera magari come emoji e niente noi ci sentiamo il prossimo mercoledì con un'altra puntata speriamo più sana di mente e vi do appuntamento appunto la settimana prossima e nel frattempo vi raccomando di non spegnere la luce ciao ciao ciao